Quattro ragazzi di vent'anni sono rimasti feriti la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto in via Adriatico a Jesolo. Era circa l'una quando i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto all'altezza della rotonda, dove l'auto con i quattro ragazzi a bordo è finita rovesciata nel fossato. I pompieri, giunti dal distaccamento locale, hanno messo in sicurezza il mezzo e con l'utilizzo di cesoie, divaricatori e martinetti idraulici sono riusciti ad estrarre i quattro che poi sono stati assistiti dal personale sanitario del SUEM, giunto sul posto con più ambulanze. Hanno stabilizzato i ragazzi per poi trasferirli all'ospedale. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle tre del mattino con la rimozione dell'auto da parte del soccorso stradale.